Il progetto Improves è un progetto finanziato dalla Regione Lombardia con capitali importanti, altrettanti ne hanno messi i partner privati, Brembo tra questi, ma non solo, abbiamo voluto avere enti di ricerca molto importanti con i quali collaboriamo normalmente, abbiamo voluto avere piccole aziende e anche start-up con noi tecnologiche e abbiamo avuto ovviamente il privilegio anche di lavorare con un grosso gruppo industriale come Magneti Marelli sul territorio. Abbiamo creato, credo, un ecosistema importante e abbiamo fatto vedere che si può fare sinergia felice tra pubblico e privato.